Come sapere se piaci a una donna? Se vuoi capire se piaci a una donna devi osservare il suo comportamento, caro malgascione, lo sguardo. Una donna a cui piaci ti guarda negli occhi, poi distoglie lo sguardo, poi continua a guardarti e mentre ti guarda ti sorride. Questo è un altro punto fondamentale. Poi vuole interagire con te, è palese che vuole interagire con te, anche se interagisci con lei in una chat tende a non chiudere le chat. Se invece ti dice ciao arrivederci e tende a chiudere subito rapidamente, beh almeno in prima istanza devi cambiare il comportamento perché quello che stai facendo non le piace. Ovviamente nell'interazione del vivo vedi che riduce la prossemica, tende a starti vicino e poi si può giocare anche sempre con la prossemica in questo modo. Se tu ti tiri leggermente indietro così vedrai che lei tenderà a venire leggermente avanti come se volesse inseguirti, come se volesse mantenere le distanze. Questo è un gioco interessante, sottile che puoi fare ma funziona molto bene. Ovviamente poi ci sono tutti i segnali di comunicazione non verbale che ti dicono che gli piaci e anche quelli che non piaci. Se uno ti vede, ti tocca al naso in questo modo, significa che non le piaci. Se invece si accarezza le labbra, sposta i capelli, ravviva i capelli, si mordicchia le labbra, si umetta le labbra, beh questi sono tutti i segnali di comunicazione non verbale che comunque piaci molto a quella donna. Inoltre poi ci sono anche situazioni in cui vedi che è interessata a te, vedi che è interessata a quello che fai, cerca di farti domande, cerca di capire se tu sei singolo oppure no. Ad esempio, questa è un'altra cosa che tende a fare, cerca o tollera diciamo un contatto fisico. Se tu le appoggi una mano sulla spalla o la sfiori, non si sposta. Ecco, questi sono tutti i segnali che ti fanno capire che tu piaci a una donna, quindi stai acquisendo potenziale. Il che non significa che sia innamorata di te, però diciamo ci sono tutti i presupposti per poter portare avanti una seduzione. Insomma, i semafori sono verdi, puoi state giocarti bene la partita, ovviamente. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Liberty dai Narcisisti con Massimo Terramasco. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!